Grazie a tutti. Sicuramente queste sono tragedie enormi, dove abbiamo visto tutte le immagini di quello che è successo in Sardegna, più sai che minuti di silenzio o cose, bisognerebbe fare in maniera che non succedessero più queste tragedie e quindi se c'è da fare un minuto di silenzio ben venga, però bisognerebbe che lo Stato magari si preoccupasse di più di prevenire certe situazioni, perché comunque sento, penso che tutti sanno, se ne stanno accorgendo che il clima sta cambiando, si va anche di fuori dal calcio, però penso che prevenire certe situazioni sarebbe molto più produttivo che magari dopo parlare di tragedia.